Coach Cuttini e i suoi uomini hanno avuto il merito di lottare sempre e di giocare con entusiasmo. Una buona prestazione al servizio, soprattutto nella prima fase. Come giudica questo match? Sono stati alti e bassi, che sono un po' tipici della nostra squadra, tipici anche dell'età dei ragazzi. Abbiamo fatica a trovare continuità di alto livello quando giochiamo con squadre di questo livello. Quindi questo lo mettiamo un po' in preventivo. Rimane sempre il rammarico perché magari facendo qualcosina in più, un errore in meno, lo dico ogni settimana. E poi stiamo in settimana a curare questo tipo di situazioni qui proprio per crescere. Sono situazioni importanti per noi da analizzare proprio per crescere. Rimane la sconfitta, però a parte una sbavatura secondo me all'inizio del terzo set, i ragazzi ci hanno creduto sempre. Questa è la cosa più importante che sto chiedendo a loro. È importante, se vogliamo salvarci questa è la mentalità. Squadra in crescita è sempre più amalgamata? Sì, quello sì. È un gruppo meraviglioso. Abbiamo sempre avuto bei gruppi, ma di questi ultimi anni secondo me è veramente un gruppo molto molto coeso. Sta a soffrire, stanno a soffrire insieme, vogliono crescere insieme, sono molto collaborativi fra di loro e si vede forse anche in campo.